buonasera buonasera a tutti coloro che si stanno collegando in questo momento sul canale youtube del teatro coccia oppure sul canale youtube del comune di novara e buonasera anche a coloro che magari sono con noi per la seconda serata in quanto già ieri sera si sono collegati hanno deciso di provare nuovamente l'emozione di una serata con noi un'emozione importante come l'emozione di doverci salutare è stata una settimana meravigliosa una settimana nella quale tutto lo staff del teatro coccia ha convissuto con questo esercito di farfalle abbiamo deciso di definirle così perché sono state meravigliosi sono stati con noi una settimana tutto lo staff lavora all'interno del teatro nei propri uffici eppure vi assicuro è stato meraviglioso sono stati solamente una presenza gentile oserei dire una presenza che ha rispettato il lavoro di tutto il teatro e ci ha resi orgogliosi di aver collaborato in qualche modo con loro siamo adesso nella platea di un teatro di tradizione un teatro che palpita di storia che percepisce le anime gentili e se anche sa rifiutarle in questo caso è nato invece un connubio bellissimo e abbiamo visto che anche uno spettacolo high tech può perfettamente coesistere anche in un ambiente come questo perché le anime non hanno età le anime si riconoscono e le anime gentili di Claudio Mazzucchelli hanno innamorato questo teatro la storia Papa Watch Me Fly è un'opera a tutti gli effetti ha una sinossi e che cos'è esattamente Papa Watch Me Fly Papa Watch Me Fly è il percorso il un percorso che un figlio e un padre in questo caso Claudio Mazzucchelli che è il direttore artistico e l'ideatore di questo spettacolo ha voluto dedicarlo a suo padre ma ha pensato a suo padre e ha ripercorso le tappe più significative o quelle più emotive della sua vita mano per mano con il proprio padre e così idealmente questo viaggio accumula un po' tutti i papà e tutti i figli che in qualche modo possono riconoscersi in questo passaggio una soluzione di brani senza soluzione di continuità ma con un significato preciso quello di condurvi attraverso le emozioni e quindi mio malgrado perché è difficile allontanarsi da questa produzione che tutti noi abbiamo amato tutti noi intendo lo staff del teatro e credo di potermi spingere a dire che forse anche un po' lo staff di Claudio Mazzucchelli si è innamorato del nostro teatro ed è per questa ragione che io non dirò arrivederci questa non è la fine ma questo è solo l'inizio adesso vi lascio a questa serata augurando buona emozione a tutti 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 I'll stay up to you, Lois, Lois, Alive and Kickin'. Oh, 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 Alive and Kickin'. I'll stay up to you, Lois, Lois, Alive and Kickin'. guitar solo 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 Oh, 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 oh Alive and Kickin', I'll stay up to you, Lois Grazie a tutti 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 Grazie a tutti